L'autorità giudiziaria di Ragusa ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 35enne e un 38enne, entrambi di origine georgiana e residenti a Napoli, per i delitti di tentato furto in abitazione e furto in abitazione aggravato in concorso. La vicenda trae origine da una complessa e prolungata attività di indagine condotta dai carabinieri della stazione di Ragusa principale tra il mese di giugno e il mese di agosto del 2020 e sviluppata a seguito di due denunce presentate da due cittadini ragusani i quali avevano segnalato un furto nelle proprie abitazioni di monili e oggetti preziosi, rispettivamente per un valore di 15.000 e 30.000 euro circa. I carabinieri, grazie a un'articolata attività investigativa, sono riusciti a identificare due dei quattro autori dei furti ricostruendone il modus operandi. Quest'ultimo si basava sostanzialmente sull'utilizzo di Grimaldelli e di una chiave adulterata con cui scassinavano le porte d'ingresso delle abitazioni senza lasciare segni di effrazione. Nello specifico il gruppo, in costante contatto telefonico, si suddivideva in due sottogruppi. Il primo, composto dai due soggetti ancora in corso di identificazione, aveva il compito di stazionare all'esterno degli edifici interessati al fine di monitorare l'area e scongiurare eventuali ingerenze di terzi o l'intervento delle forze di polizia, permettendo così al secondo sottogruppo di adoperarsi indisturbato per penetrare all'interno degli appartamenti e sottrarre gli oggetti di valore. Il gruppo, inoltre, utilizzava come appoggio un immobile non meglio individuato a Catania, da cui si spostava giornalmente verso Ragusa per compiere i furti e a cui faceva sistematicamente ritorno prima di recarsi definitivamente a Napoli. In ragione degli elementi raccolti dai militari, l'autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere dei due identificati, a seguito della quale il 35enne è stato ristretto presso la casa circondariale di Napoli Poggio Reale, mentre il 38enne non risulta reperibile sul territorio nazionale.